Paolo Bonolis, inaspettatamente, ha condiviso un post su Instagram, un social che raramente utilizza, immortalando se stesso con i suoi figli e la sua ex moglie Sonia Bruganelli. Accanto alla foto ha scritto una frase rilassante, sottolineando che nella vita di una coppia possono accadere molte cose, ma il legame genitoriale, quando si hanno dei figli frutto dell'amore, rimane immutato. Il presentatore ha così espresso il suo sostegno alla produttrice televisiva. Ciò che ha colpito è stato il tempismo con cui lo ha fatto. Proprio in questi giorni Bruganelli è stata criticata pesantemente per le sue esibizioni poco memorabili a Ballando con le stelle. Centinaia di utenti l'hanno definita falsa, arrogante e ipocrita. La vita ci offre molte possibilità. A noi spetta dare loro significato. Le scelte degli adulti sono una cosa, ma questo legame genitoriale e questo amore per i nostri figli, anche oggi, ogni giorno, ci tiene uniti. Tutto il resto, noia, no, non ho detto gioia. Così Bonolis ha commentato su Instagram una foto in cui appare con l'ex moglie e i tre figli. Come detto in precedenza, il conduttore di avanti un altro raramente pubblica sui social. È evidente che, avendo visto in difficoltà l'ex compagna, ha voluto mostrare pubblicamente il suo sostegno. Inoltre, il suo gesto è una risposta a coloro che si sono chiesti come mai Bruganelli sia stata sopportata da lui per così tanti anni. Bonolis ha anche fatto intendere chiaramente che non prova alcun risentimento o rancore nei confronti dell'ex moglie. L'immagine familiare e le parole del conduttore sono state immediatamente commentate da numerosi fan. La maggior parte di loro ha elogiato il presentatore romano. Ive, sottolineando cui questa occaniesine, si è dimostrato un signore e un se un uomo sensibile. In un mondo pieno di vendette e colpi bassi dopo la fine una relazione sentimentale, Paolo Bonoli.